E siamo al calcio, il Pescara ha ufficializzato proprio oggi il neotecnico Silvio Baldini, 66 anni il prossimo 11 settembre, domani la conferenza stampa di presentazione intorno alle 18.30 all'EC Hotel, l'allenatore toscano originario di massa, per l'allenatore toscano originario di massa, contratto di un anno senza opzione, lunedì 15 luglio partenza per il ritiro di Palena, nel pomeriggio il primo allenamento. La conferenza del neotecnico Biancazzurro, lo ricordiamo, sarà preceduta alle 17.45 di domani dalla presentazione di Ciao Tickets in carriera a livello professionistico, Baldini ha guidato le seguenti squadre, Massese, Siena, Carrarese, Chievo, Brescia, Empoli, Palermo, Parma, Lecce, Catania, Vicenza, Perugia e Crotone. Due promozioni in A nel 2001-2002 con l'Empoli, Salvezza l'anno successivo e in BI col Palermo al termine della stagione 2021-22. In Serie A Baldini ha allenato Empoli, Parma, Lecce e Catania. Le operazioni di mercato, alcune già definite, alcune anche ufficializzate, quella di Andrea Ferraris attaccata nel 2003 dal Monza a titolo definitivo, contratto triennale, così come la portiere Saio dalla Sampdoria classe 2002, anche per Saio un contratto triennale. Saccomanni attaccante del 2006 lo scorso anno in evidenza nel notaresco. Iacovo, un attaccante del 2004 dal Renate che però sarà girato in prestito. C'è l'accordo con il difensore Andrea Accardi, che è un giocatore che è stato appunto di dipendenza di Baldini, dunque gradito al neotecnico Biancazzurro. Andrea Accardi ha militato lo scorso anno nella Virtus Francavilla. Accordo anche con Accursio Ventivegna, esterno ma anche trequartista all'occorrenza, ex carrarese con Baldini dal 2017 al 2020. Operazioni che però devono essere ratificate con Giovanni Foresta, 29 anni, classe 95, altro elemento gradito dal tecnico toscano. C'è stato soltanto un contatto. L'islandese Carlson, di proprietà del Venezia, lo scorso anno alla Vis Pesaro, ben 10 gol. Insomma in doppia cifra in evidenza questo attaccante. Bene, c'è un accordo con il Venezia, tra i due direttori sportivi, ma ci sta pensando l'attaccante e quindi vedremo quello che succederà. Per quanto riguarda invece le uscite ci sono quelle prioritarie. Intanto c'è da dire di Pasquale, sarà annunciato dal Crotone, contratto biennale lunedì prossimo. Le altre uscite prioritarie, Manu che è vicinissimo alla Claudiense Chioggia, ne ho promossa in Serie C. Colai e Bergani, per Colai e Bergani bisognerà trovare una collocazione. Saluteranno, ma forse ci vorrà più tempo, Pizzari, Merola, Squizzato, Tuniov, naturalmente Cuppone che si è riavvicinato al Cerignola. Non sono obiettivi, fonti societarie, Zappella sarebbe stato un ritorno e Decol, ex lanciano di proprietà del Vicenza. Aggregati al ritiro di Palena i giovani Preta, Zandri, Giannini, Palumbo e Gatto.